Svapo! Ciao amici bentornati in un nuovo video podcast, è martedì Fussino! Alex Metticelli che ci prende gusto! Questo popcorn croccante è buonissimo, devo ringraziare come sempre il nostro non sponsor, è simpatico, magari se riusciamo a organizzare poi una live con lui non sarebbe male! L'Italia è qua lui, ci proviamo! Allora, settimana scorsa vi siete riscaldati per bene con la zona gialla, questa settimana torniamo un attimo sulla nostra linea temporale, perché Federico... Federico ogni tanto se ne esce sempre con i suoi pensieri totalmente a caso è molto bizzarre in realtà, perché ultimamente mi sono trovato in alcune situazioni dove c'ero, ma non c'ero! Cosa vuol dire questa cosa? Che ero presente magari, non so, anche solo a cena ero lì presente, però è come se non ci fossi stato, perché con la testa ero totalmente da un'altra parte! Non so se anche a voi è mai successa una cosa del genere, però ultimamente mi succede sempre di più, perché ho mille cose per la testa e quindi non riesco più a vivermi gli attimi, essenzialmente! Quindi oggi ci sono, ma non ci sono! Cosa vuol dire? Vi è mai capitato, anche quando guidate lo so che non deve succedere, non fatelo in alto! Per una roba riconosciuta, lo sai? Siete lì che pensate a qualcosa, intanto la strada va avanti, non è che state dormendo, voi fate tutto quello che dovete fare, manovre precise, ma poi vi accorgete che stavate pensando a tutt'altro, eravate in un multiverso! Sì, sì, sì! Tra l'altro ho letto una roba su questo, perché è riconosciuto che se ci pensi, molte volte la strada che fai, per esempio, lavoro, casa, tu non la ricordi! Cioè, la ricordi per una, due volte, a meno che non succede qualcosa di particolare quel giorno, sennò tu vai da lavoro a casa e quello che succede in mezzo non te lo ricordi più, diventa un automatismo! Sì, dopo la fermo, è vero, è vero, vabbè! Ci sta, è giusto! È particolare! È strano, ma effettivamente io ci faccio sempre più caso, alla fine la strada me la ricordo, perché... I Simpsons lo sapevano, perché la storia di Homer che ha la scimmietta mentre gli altri gli parlano, a volte non vi capita questo, io ho questo brutto vizio e sicuramente qualcuno se n'ha accorto di voi, quando mi parlate, io non è che non sono interessato, che volte poi il mio cervello, ce l'ho, confermo, comincia a macinare su altre cose o tramite il vostro argomento mi si accendono diramazioni oppure ramificazioni come gli aminoacidi MyProtein, lì in descrizione, e pensi totalmente ad altro, ma non è mancanza di rispetto, è che è talmente il cervello iperattivo... È vero, confermo! Ormai, stando con questo buon un uomo ultimamente, mi sono accorto anch'io, visto che c'è una cosa sua che mi dà fastidio, forse non ti l'ho mai detto... Quello che scrive i messaggi... No, no, quello che ho appena detto proprio, che magari ogni tanto gli parli e lui li dà a parte, magari anche col telefono in mano, ma non tanto per il telefono, ti sta ascoltando ma allo stesso tempo sta facendo altro, ma non è che... non è che mi dia fastidio, perché va bene... Confermo! E multitasking, multitasking va bene la cosa, e il fatto è che dici, ma mi sta ascoltando o no? Perché tra un po' sbarello! Vedete, vedete questo, mi hanno dato la prova, ma immaginavo che gli dava fastidio! Però... Quello, un messaggio, io ho il vizio di scrivere ciao, come stai? No, ma a parte quello... No, che magari sono qua con te, tu stai scrivendo a qualcuno e ti sto parlando, ma mi ascolterò? Bip! No, non c'era! No, non l'ho detto, per fortuna non l'ho detto tutto, però mi sono accorto ultimamente che succede sempre di più anche a me, però ho imparato una cosa, dire alla persona, prendo il telefono, per esempio, e dico alla persona, ti ascolto, è tranquillo, inizio a fare, e poi... così sono, ho coscienza pulita, me ne dava mai! Il stesso discorso, come parliamo di lui, che nei messaggi l'uomo più freddo è peggio di un cecchino durante la guerra... Non con tutti, però... L'altra settimana, prima di venire a registrare il podcast, mi ha detto, ah sì, guarda tutto qua, e poi mi ha scritto... E poi ha precisato, asterisco, guarda che era un pensiero! E io gli ho risposto, ormai ho imparato a capire, a leggere il tuo linguaggio... No, perché se non mi ha dato un'ora, io... Va bene, no, vabbè, era il... Ci penso, non... Ok, mi ha dato! Tutto questo, il video di oggi è nato perché? Perché Federico mi ha detto, sono stato a una cena, poi raccontalo tu, perché raccontato da te è più bello! No, essenzialmente sono stato appunto a una cena, adesso, vabbè, come sapete tutti, si può stare in persone limitate a cena, quindi sempre rispettiamo le regole... Ero con questo gruppetto di amici e tutto, e mi sono accorto di aver vissuto una serata magari di 3-4 ore, ma di averne vissuto effettivamente 10 minuti, perché la sera dopo, parlando, mi ha detto, io non mi ricordo nulla! Non mi ricordo nulla di tutto ciò che è successo, perché anche se ero lì a cena con loro e tutto, ricordo solo alcuni attimi, magari un brindisi, magari qualcosa... Però di tutto ciò, di tutto lo svolgimento della serata, ho un vuoto! Perché con la testa magari pensavo altro, avevo altri pensieri, lavoro, magari emotivi, c'è mille cose, e mi sono letteralmente perso, però me ne sono reso conto il giorno dopo ed è stato quasi brutto! Lo sai che questa modalità mi parte? Se tu riguardi tutti i videopodcast, c'è qualche momento, come mi è successo adesso che tu parlavi, che io mi inchiodo e con lo sguardo sembro perso, che non ci sto ascoltando o che sto per andare in catalessi, in realtà no! Il cervello sta cominciando a lavorare a tutto quello che dici anche per dare un pensiero giusto, corretto e coerente anche per voi, perché io e lui abbiamo dei linguaggi che possiamo capire io e lui, però arrivare da voi, che a volte non è facile far capire poi... Io ci provo, ormai c'è stato un cambiamento, spero dall'inizio, quindi... Vi sblocco un ricordo! All'inizio era molto più difficile, adesso ci stanno facendo tutti i complimenti che andiamo proprio a ping pong, è normale! Eh, ci vuole un attimo! Dobbiamo fare 52 videopodcast più le mukbang e più gli speciali... Dai, ho io un'idea! L'ultimo lo facciamo nudi, censurato però! No, per carità, censurano anche il canale! Beh, magari facciamo il cambiamento fisico poi che riempiranno le palestre anche il giugno, quindi ragazzi, grande cosa! Speriamo, speriamo! E a voi qual è la cosa più strana che sia mai capitata? Guidare? Pensare a una cosa e trovarvi a casa? Andare a una cena con amici e non ricordare, oppure avere quei flash di 10 minuti? Ma soprattutto... Non obbriacchie! Mi raccomando! Ma soprattutto perché secondo te e secondo voi di questi 10 minuti che ci ricordiamo a volte anche di eventi che capitano a sprazzo nella vita a età diverse e te li porti dietro? Ad esempio, io ho notato anche con degli amici di sempre che abbiamo sentito una frase, una battuta in un momento inutile, però che ci è rimasta! Hai cagato! Ne parliamo, praticamente sì, ne parliamo ancora oggi e ci ricordiamo quel momento quando magari intorno sono successe altre 10.000 cose più belle e importanti, ma ti ricordi di quella cosa singola? Certo! Strano! Sì, come puoi esserci un esempio, che ne so se hai una festa, quando saremo una festa tutto, tutta la sera balli, fai festa, bevi, brindisi tutto quello che vuoi, divertimento tutta la sera, eppure tu ti ricordi quei 5 minuti magari passati con una persona sola a fare due chiacchiere in disparti da tutti, senza musica, senza niente, di quello ti ricordi tutto e di tutto il resto, boh, è un contorno, mettiamola così. Cioè, ti ricorda che è un ambito felice, qualcosa che ti sblocca il ricordo felice, però ti ricordi solo di quel momento. Sei dove mi riporta questo? Quando abbiamo parlato che un messaggio ricevuto male in un momento di felicità ti può rovinare tutto il resto. E questo è la stessa cosa, cioè quel momento particolare di gioia te lo porti dietro, quando magari però intorno ce ne possono essere altri 10.000 più importanti o più significativi. E questa è la cosa strana. Quindi, se avete avuto anche voi la cuna coil, cioè delle lacune... No, ma è stato traumatizzante. Soprattutto una persona come me, che per chi me conosce sa che faccio attenzione a tutto, tipo è successo anche un'altra volta dove c'erano 2-3 persone che parlavano insieme, io ho un problema che riesco a ascoltarli tutti e tre insieme e dargli un senso, ok? Quindi io odio se parlate in 3-4 insieme perché riesco a ascoltarvi tutti a capire cosa dite, però il mio cervello inizia... Sì, questo si può dire. Cioè io vado fuori, infatti ho detto... Zitti, parla tu, parla tu e poi parla tu perché se no non so più come gestirla, mi dà proprio fastidio perché vorrei dare attenzione a tutti allo stesso modo. Il nostro multifede è così, lo mandiamo a 9,99 qua sotto in descrizione, affittato per un discorso a quarti d'ora. E poi voglio dare una risposta invece a quello che hai detto tu che ti blocchi guardando un punto. Hai iniziato a leggere il libro sulla PNL? Non ho ancora iniziato a leggerlo. Perché in realtà mentre che io stavo raccontando il tuo cervello è iniziato a immaginare quella che poteva essere la scena sicuramente almeno. Ah beh, certo, certo. Quindi immaginare quello che io stavo facendo, magari che ho descritto il fatto che stavo... Cioè se fosse andato ancora più nel dettaglio, il tuo cervello si è spostato verso la parte sinistra e quindi tu hai guardato verso sinistra per immaginare qualcosa. Se no ho notato anche che se pensi, se stai pensando qualcosa di tuo, tu guardi verso destra. Ah, ottimo. In alto verso destra, perché sblocchi parti del cervello diverse. Io credo a queste cose perché io la musica la vedo, non la sento solo. Io vedo i colpi di cassa, i tet, i bassi, li vedo e li sento. E non è una cosa, non ci siamo fumati niente, stiamo bevendo una bevanda di MyProtein e quattro calorie. Quattro. E tutto questo è cominciato da cosa? Sai Fede, ti è mai successo che magari ti ricordi prima di entrare in radio? Appena ci siamo visti. Io ho detto, ma senti una cosa, ma ti sembra strano che noi ci vediamo una volta, possiamo dirlo tranquillamente, una volta ogni quindici giorni per preparare le due puntate. Ma sai che sembrano due giorni che non ci siamo visti, in realtà ne sono passati quattordici. E da lì lui mi va, ma sai la stessa cosa? E' un buon faus. E ci sono provati qua, qua in Piemonte. Grazie Fede come sempre. Grazie a te Alex come al solito dell'ospitalità. E avete sotto i commenti per risponderci, ho i pollici su, quelli giusti sono arrugginiti. E andiamo e ci vediamo la settimana prossima con lo Svapo! Ciao! Bello con ciao! Ciao Svapo! Perché ti cambia la voce! E come le aglio al contrario. Ciao Belli! Hai cagato? Ciao